Celebrare per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto, lo sterminio degli ebrei è lo spirito che anima la giornata della memoria che si commemora ogni anno il 27 gennaio. A Campobasso molte le iniziative organizzate all'interno delle scuole coinvolgendo e sensibilizzando i ragazzi su un tema difficile da affrontare. All'Istituto Colozza è il progetto che ha coinvolto le classi terze della primaria. Siamo partiti dal presupposto che la scuola non può solo celebrare e ricordare in giorni prestabiliti secondo determinati rituali. E quindi abbiamo elaborato questo progetto, l'Incipit da cui si parte l'educazione alla cittadinanza. Come si fa a spiegare la Shoah a un bambino? Noi tra i tanti strumenti utilizzeremo anche gli albi illustrati, contengono codici narrativi adeguati per i bambini della nostra età e presentano chiaramente un andamento lieve in cui viene affrontato il dramma, la speranza, il desiderio di vivere. Parlare della Shoah ai bambini è possibile? È possibile ma anche l'esercizio più difficile che un docente universitario possa fare perché va cambiata la lingua, va cambiato non il tipo di messaggio evidentemente, ma anche la struttura linguistica con cui bisogna presentare quella che in fondo è stata anche una grande tragedia dell'umanità. Ecco, stamattina cosa avete fatto con i bambini in classe? Questa mattina abbiamo presentato un libro, un libro per bambini evidentemente della loro età, che racconta la storia di un mestolo che viveva in una casa piena di festa, piena di luce, piena di risate, piena di gioia. È una casa che poi si svuota, si svuota delle persone. È come quindi se le cose sentissero nostalgia delle persone ed è una bella storia. Ecco, da questa storia comunque si può nascere anche un messaggio di speranza? Il messaggio di speranza è quello che anche i bambini stanno dando con le loro reazioni, che hanno dato con le loro reazioni, cioè convincersi che bisogna stare sempre allerta, che quindi la democrazia e la libertà non sono mai gratis ma dipendono dall'impegno personale. L'Istituto Montini ha invece organizzato un'iniziativa al cinema maestoso, con la proiezione del film Un Sacchetto di Biglie, al termine del quale i ragazzi hanno ascoltato il racconto di Michele Montagano, sopravvissuto ai campi di concentramento. La sua esperienza fatta di atrocità, di dolore e di paura, dalla quale tuttavia deve partire un segnale forte, rivolto alle nuove generazioni affinché mai più si verifichino simili atrocità.